Rischia di arrivare all'inverno così come l'abbiamo vista questa mattina la balera situata sulla litorania di Salerno che è un po' oggi il simbolo di tutti i locali come questi spazi cioè destinati esclusivamente al ballo come attività di aggregazione e divertimento per tante persone che però con l'ordinanza siglata ieri dal governo nazionale deve fermarsi per il rischio di contagio da coronavirus da oggi infatti è attivo lo stop a tutte le attività di questo tipo anche all'aperto sugli stabilimenti balneari ed anche purtroppo in quelle strutture che avevano sostenuto spese di investimenti per adeguarsi alle norme anti covid il sindacato che rappresenta i gestori il sib è pronto a presentare ricorso al tarro contro il provvedimento domani alle 17 si terrà un confronto online la conferma arriva da alfonso amoroso rappresentante provinciale della categoria martedì ci sarà questo questa riunione nazionale del silb il sindacato del locale da ballo e quindi si deciderà se partire con questo ricorso al tarro ci sono i presupposti per poterlo far partire oppure meno io credo che questa cosa si farà e che servirà quanto meno risarcire tutti i danni che abbiamo ricevuto finora è una chiusura a sorpresa no mentre magari la prima era attesa questa nuova ordinanza ferma strutture che magari avevano anche fatto degli investimenti per adeguarsi alle norme anti covid sì molti di noi con la riapertura hanno immaginato di poter riprendere l'attività e quindi sono lanciati in investimenti anche grazie alle garanzie che lo stato dava quindi ci siamo indebitati con le banche per poter migliorare per poter come dire in qualche modo riprendere l'attività alla grande ma questo alla fine dopo un mese si è vanificato ed ecco che oggi troviamo ancora più di accordi più indebitati di come lo eravamo prima tra l'altro queste attività hanno difficoltà a riconvertirsi perché qualcuno potrebbe anche immaginare va beh ma non dovete fare forse il ballo sì è vero non dobbiamo fare forse il ballo ma sono attività che impegnano metri quadrati esagerati se parliamo di quelle che professionalmente fanno queste attività e sono attività che poi nel riconvertirle impegnano investimenti esagerati tutto questo è chiaramente ha bisogno di aiuti statali che siamo sicuri che non non ci daranno perché mentre nella prima ipotesi quindi nella prima chiusura a chiudere eravamo tutti oggi sembra che a chiudere siamo solo noi il ballo è un po il capo respiratorio vi sentite così sì ci sentiamo amareggiati ancora di più come dire colpiti in quello che è la nostra attività professionale anche perché si dice in giro che la colpa è delle discoteche ma in realtà non è così in realtà questi eventi sono stati causati da altre situazioni certamente non verificatesi in attività che professionalmente sono abituate a gestire folle di persone tengo presente che nelle nostre attività impieghiamo 7 8 persone solo per la sicurezza solo per la salvaguardia di queste di queste nostre di clientela quindi immaginate voglio dire come poteva succedere in un'attività che è già abituata è già pronta a recepire una folla di una massa di persone quello è successo laddove si sono fatti queste come dire questi questi eventi abusivi da persone non professionalmente preparate e quindi si è verificato il problema